Continuano le indagini della Guardia di Finanza di Lanciano in seguito all'operazione avvenuta alcuni giorni fa che ha consentito l'individuazione a Villa Santa Maria di un distributore di carburante per autovetture abusivo in particolare i finanziari della compagnia di Lanciano diretti dal capitano Domenico Siravo. Al termine di indagini svolte anche attraverso prolungati appostamenti hanno rilevato che il titolare dell'attività un cinquantenne di Sant'Angelo del Pesco in Molise era privo della prevista licenza per gli impianti di distribuzione di carburante. Le fiamme gialle frentane hanno rilevato la presenza di quattro cisterne di stoccaggio della capacità complessiva di 70.000 litri e 4.650 litri di sostanza petrolifera che sono stati posti sotto sequestro. Il titolare dell'attività è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Lanciano per i reati di sottrazione all'accertamento o al pagamento della CISA sui prodotti energetici e ricettazione. Le indagini dunque proseguono al fine di accertare l'origine del combustibile venduto illecitamente. Il comandante della compagnia di Lanciano della Guardia di Finanza, il capitano Domenico Siravo, sottolinea l'impegno dei finanzieri nella tutela di chi opera nella legalità. Sì, diciamo che l'attività che abbiamo concluso in questi giorni rientra nell'ambito delle priorità che si è imposta alla Guardia di Finanza nel contesto del rispetto delle norme per la vendita di idrocarburi in genere e anche rispetto alla concorrenza, che non ci siano episodi di concorrenza sleale come quello che abbiamo riscontrato in questi giorni. Le attività adesso continuano, sono finalizzate a rilevare l'origine del prodotto e a individuare quelli che possono essere stati i fornitori del prodotto che abbiamo sequestrato. Ecco, c'è una particolare attenzione da parte della Guardia di Finanza al territorio e a prevenire e reprimere tutti i reati che possono essere commessi. Il territorio frentano è sicuramente un territorio molto vasto, abbiamo la compagnia di Lanciano a competenza su 44 comuni, arriviamo al confine con la provincia di Sernia. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto sicuramente da mettere in risalto, da evidenziare, è che se è vero che da un certo punto di vista c'è particolare attenzione sul rispetto delle norme da parte di quei distributori ufficiali, quelli regolari, dall'altra c'è anche attenzione che non ci siano episodi truffaldini come quello riscontrato che vanno sicuramente a minare la concorrenza sana e leale operata dai distributori onesti e che vendono regolarmente carburante. Il capitano Siravo sottolinea anche l'azione capillare della Guardia di Finanza su tutto il territorio di competenza senza trascurare i piccoli centri del Chietino. Certo, la Guardia di Finanza comunque ha questa mission, il controllo del territorio in maniera capillare, ogni singolo comune. Noi, come dicevo prima, abbiamo questa competenza che va certo incentrata sui grandi centri, come può essere Lanciano, ma non ci sottraiamo al controllo del territorio anche nelle zone più lontane e nei paesi più piccoli, come può essere appunto Villa Santa Maria.